Pumpkin Jack si è rivelato una piccola sorpresa. Seguendo la lezione di Medivole e arricchendo il tutto con un gran quantitativo di citazionismo, lo sviluppatore Nicholas Masonie ci propone un platform in tre dimensioni dallo stile accattivante. Si tratta di un titolo un po' grezzo nelle meccaniche e non sempre molto ispirato sul piano della direzione artistica, ma comunque mosso dal sincero desiderio di coinvolgere e divertire. Pumpkin Jack è il figlio di ambizioni moderate e pure genuine di quelle che, con piena coscienza di propri limiti, cercano di intrattenere il giocatore con un insieme di situazioni spigliate ed ironiche. La storia ci vede impersonare l'infido Jack, un assassino riportato in vita dal diavolo in persona. Dopo che Satana è inviato sulla Terra la calamità di ogni tipo al puro scopo di divertirsi, gli umani hanno chiesto l'aiuto di un potente mago per porre fine alle melefatte del demonio. E così a Jack spetta il compito di eliminare l'incantatore, in modo da riportare la distruzione nel regno dei mortali. Non c'è nulla di rimarchevole nelle premesse narrative di Pumpkin Jack né nel loro sviluppo, eppure la storia scorre via con piacevolezza. Il merito non risiede in risvolti sorprendenti o in chissà quali trovate di sceneggiatura, ma nell'umorismo che avvolge tutta l'avventura. E se consideriamo gli intenti della produzione, già questo traguardo può dirsi più che sufficiente. Un cast di strambi personaggi, le ispirazioni a Tim Burton e il continuo ricorso del citazionismo rendono la trama di Pumpkin Jack un allegro pretesto per intrattenere il giocatore lungo le circa 5 ore necessarie a raggiungere i titoli di coda. Come nel più classico degli adventure platform in 3D, nei panni di questa zucca antropomorfa dovremo farci largo attraverso una serie di livelli molto lineari. Con solo qualche piccola deviazione qua alla ricerca di collezionabili, utili a sbloccare i costumi aggiuntivi del protagonista. Partendo da queste solide basi, lo sviluppatore ha centrifugato all'interno della produzione un buon numero di situazioni diversificate, così da rendere la progressione vivace e mai troppo monotona. E proprio questo è il pregio migliore di Pumpkin Jack. Anche con un'ovvia ripetizione dei soliti pattern, ogni livello propone differenti alternative alle meccaniche platform, simpatiche soluzioni dedicate al puzzle solving e a frangenti più spettacolari su binari. Nell'insieme, l'offerta di Pumpkin Jack cerca di sopperire con la varietà alla mancanza di rifinitura del gameplay. Sotto questo fronte lo sviluppatore ha fatto centro, la sua è un'avventura spensierata caratterizzata da un ritmo avvincente al punto giusto. Anche la diversificazione delle armi segue più o meno la medesima filosofia di game design. Al termine di ogni livello, la nostra zucca assassina entrerà in possesso di un nuovo strumento di morte, generalmente sottratto al boss di turno, con cui affrontare le minacce del quadro successivo, alternando a piacimento i propri gadget. L'effetto sui bersagli non presenta modifiche sostanziali e nell'insieme la loro aggiunta è pensata per rendere un po' più vario l'avanzamento nei livelli, senza però offrire chissà quali vantaggi al giocatore. Restando in tema, anche i mostri in cui ci imbatteremo appartengono ad un bestiario dignitoso, fatto di zombie, gargoyle, cavalieri umani, volateli velenosi e tanto altro. Insomma, Pumpkin Jack intrattiene, incuriosisce e rallegra per qualche ora, spingendoci a supersedere di fronte ad alcuni palesi inciampi ludici. Le fasi platform, ad esempio, a tratti risultano un po' imprecise, e lo stesso può dirsi per l'ampiezza dei salti e per la solidità delle collisioni. Complice una telecamera non sempre bene impostata, i valzi sulle superfici appaiono dunque un po' incerti, e la corretta calibrazione del platforming finisce per risentirne. Il sistema di combattimento, per quanto discretamente funzionale, si basa quasi per intero sul fursennato button mashing, intervallato da schivate che garantiscono qualche frame di invulnerabilità. Per quanto risulti scorrevole e innocuo, il combat system soffre il peso di un caos che indebolisce la leggibilità dell'azione. Infine, anche i frangenti dedicati al puzzle solving alternano enigmi davvero ben riusciti ad altri non proprio brillanti, utilizzati per lo più come riempitivo tra un salto e uno scontro. Nella sua semplicità, Pumpkin Jack convince in parte anche sul versante visivo. Le animazioni sono a tratti grossolane e il riciclo di assets lungo tutta l'avventura è fin troppo evidente, ma lo stile da cartone animato e l'atmosfera allegramente inquietante contribuiscono a comporre un colpo d'occhio tutto sommato abbastanza piacevole. Su PC ovviamente il gioco dà il meglio di sé, nobilitato dalla presenza del raytracing. A spiccare è soprattutto un buon uso degli effetti particellari e di quelle suggestioni a metà tra l'horror e la fiaba. Curioso è anche l'accompagnamento musicale. Per quanto alcune sonorità siano fin troppo tradizionali, il loro utilizzo ben implementato e il ricorso a brani della musica classica nelle sequenze più spettacolari donano al titolo una buona dose di personalità. Pumpkin Jack è un'avventura vecchio stile, modesta nelle ambizioni e dignitosa nella realizzazione. Se non vi aspettate il vero erede di Medieval, né un platform 3D rifinito fino nel minimo dettaglio, l'opera saprà intrattenervi a sufficienza col suo stile brioso, la sua varietà di situazioni e la sua vivace cornice artistica. Pur al netto delle imprecisioni e delle ingenuità di game design, Pumpkin Jack rende comunque onore ai classici del genere, traducendo in formato videoludico lo spirito di Halloween.